Il Governo regionale è pronto a chiedere lo Stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia, un provvedimento che punta soprattutto a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini, di quella per il comparto agricolo e zootecnico e per consentire alle imprese di continuare a lavorare e portare avanti i cantieri nell'isola. E questa la decisione presa ieri nel corso della riunione del tavolo tecnico, convocato a Palazzo d'Orlean dal presidente della regione Renato Schifani, al quale hanno preso parte l'assessore all'agricoltura Luca San Martino e diversi altri dirigenti regionali. La situazione è seria, afferma Schifani, e il Governo sta facendo tutto il possibile per affrontare l'emergenza, coinvolgendo tutti i rami dell'amministrazione competenti e chiedendo adesso il supporto dello Stato. Intanto, continua Schifani, abbiamo già attivato gli interventi più urgenti nel breve e medio periodo. Occorre allo stesso tempo sensibilizzare i cittadini a un uso più consapevole e responsabile delle risorse idriche disponibili. Per questo, conclude Schifani, nei prossimi giorni avvieremo un'apposita campagna di comunicazione per un uso intelligente dell'acqua. La Giunta, lo scorso 13 marzo, aveva approvato lo stato di crisi e di emergenza regionale nel settore idrico potabile fino al 31 dicembre per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani e Messina. E a febbraio aveva proclamato lo stato di calamità naturale da siccità severa per l'intero territorio siciliano e lo stato di crisi idrica sia per il settore irriguo sia per la zootecnia. Il 2023, infatti, è stato il quarto anno consecutivo con le precipitazioni al di sotto della media storica di lungo periodo e anche i primi mesi di quest'anno, caratterizzati da temperature più alte e scarsità di piogge, hanno confermato questa tendenza.